Buongiorno a tutti e benvenuti ad un'altra edizione speciale in cui con analisi evoluta facciamo vedere quelli che sono i falsi miti del trading e illustriamo le persone comuni che hanno voglia di uscire dal parco vuoi, ovvero di comprendere veramente come si muovono i mercati, che cosa succede. Mi è scattato questa allarme, EURUSD incrocio, ovvero siamo andati a target su EURUSD. Avevo dato, anche se ci fosse stata discesa, due target di cui uno era questo, i 1,1956 e eccoci qua, abbiamo fatto 1,11. Analisi fatta ieri, prima che arrivasse che cosa? Quello che doveva essere un dato fondamentale per i movimenti che poteva cambiare le sorti dell'EPC annuale USA. Però io la mia analisi l'ho fatta prima, l'ho fatta ieri, quindi questo comprova che l'evoluta va ben oltre quelli che sono i dati che vi dicono che possono impattare sul mercato. Noi avevamo già dato EURUSD salita con un target, fatto e rispettato. Altra cosa, cosa avevamo detto su, qui siamo S&P500, su S&P500 avevamo segnalato analisi di sabato se non mi ricordo male, previsione precedente perfetta eccetera, qui leggeteli sempre i commenti perché sono fondamentali. E ora cosa possiamo aspettarci dall'unico indice che sembra già vincolato a continuare a salire per tutto il nuovo annuale inverso? E qual era la previsione di salire? E che cosa è successo su S&P500? Eccoci qua, ci siamo vincolati per un altro settimanale inverso che però non dura soltanto 5 T-3 inversi, ovvero 5 cicli giornalieri inversi che partono da massimo, fanno minimo, tornano su massimo, massimo, minimo, massimo eccetera eccetera. Quindi anche se qui dovessimo andare temporaneamente a fare uno short per valutare la partenza di un T-1 inverso, questo è il primo T-1 inverso e spinge giù per scendere, ok? O se comunque si facesse una discesa per far partire il stesso T-3 inverso, noi poi ci rimetteremo a comprare, andremo long sulla discesa che eventualmente arriverà. Perché? Perché abbiamo un vincolo rialzista. Per cui anche in questo caso l'analisi fatta ben oggi il 12, ben 4 giorni fa a mercati chiusi, nonostante il dato IPC, ok? Che magari non era neanche tra l'altro quello che ci si poteva aspettare, l'analisi è andata giusta, è stata corretta su S&P 500, è stata corretta su euro-dollaro, non abbiamo... ah giusto, potrei farvi vedere anche bitcoin, dove è finito bitcoin? Eccolo qua, bitcoin. Che cosa avevo segnalato? Qui c'è ancora una traccia, la freccia. Avevo detto che dai massimi, da questa candela qua, potevamo andare a finire sulla mediana, su questa zona qua, ok? Ve lo faccio vedere per completezza direttamente dal gruppo premium, ok? Eccolo qua. Eravamo qui, segnalavo dove si poteva andare, perfetto, allarme messo, sempre con il nostro tecnica 2 siamo a 3 su 3 in due giorni, ok? Sempre paper trading, noi facciamo le cose bene, ok? Target a 30.670, target dinamico che sale, prima avevo dato un altro target, 2 su 2, bla bla bla, comunque, eccolo qua, 3670, che cosa è successo su bitcoin? Questo minimo è invece 670, 30.617, quindi nonostante il dato dell'IPC che poteva sconvolgere l'universo conosciuto, nel tempo dato, con le regole date, con il metodo matematico, statistico, non discrezionale, della mia evoluta, noi siamo andati a target dappertutto, euro, dollaro, S&P 500, bitcoin, nel breve, ok? Qui su DAX stavamo aspettando di vedere come poteva chiudere l'ottavo t-3 inverso e siamo ancora entro le 44 barre, andiamo un po', siamo qui, perfetto, quindi ci siamo, stessa identica cosa su MIB, per questo motivo vi ribadisco, ok? Questo è un metodo che funziona a prescindere dai dati, a prescindere dalle notizie, a prescindere da tutto quello che volete. Possiamo fare, e l'ho già fatto anche in passato, andate a cercare sul canale, possiamo fare tutti gli esperimenti che vogliamo, ok? E se andate a controllare ho fatto altri interventi didattici, tra gli oltri 2300 video fatti di analisi praticamente quotidiana tranne che durante le vacanze, in cui vi faccio vedere che tutto ciò che possono essere notizie, market mover e quant'altro, mediamente, ha un effetto che viene riassorbito durante la giornata o anche in meno tempo, in poche candele, e non cambia quelle che sono le aspettative del metodo statistico-matematico non discrezionale chiamato Evoluta. Questo è un'altra delle dimostrazioni che andiamo a dare direttamente sul Reale e ci segniamo anche, come detto, in modo molto fantastico, favoloso, un 3 su 3 per quanto riguarda il discorso di paper trading con il nuovo tecnica 2 che è un bijou, ok? Quindi siamo a 6 operazioni in gain su 6, 3 reali ieri, oro, DAX e MIB e 3 di paper trading su bitcoin che stanno funzionando benissimo. Indicatori senza l'evoluta non servono a niente perché si possono girare in qualsiasi modo, ma con l'evoluta andiamo a target. Cosa fare a questo punto? Beh, le strade sono due. Non fidarvi e controllare sui video precedenti, fidarvi e dire, ok, voglio investire del tempo per comprendere questo metodo? Sì. Come posso fare? Gratuito, playlist che ormai conoscete, Trading Days, in cui potete fare un corso gratuito che vi spiega i rudimenti dei cicli. Se volete fare il passo da pro, ovviamente dovrete passare al gruppo premium. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata, la mia già perché adesso vado a controllare tutti gli eccessi e vado a vedere se ci sono altri tecnica 2 da valutare. Arrivederci!